Musica Nella sala operativa unificata della protezione civile a Firenze si è fatta la conta dei danni della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. Al centro della riunione a cui hanno partecipato il presidente della regione Enrico Rossi e l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, che si sono collegati in diretta con le sale attivate su tutto il territorio regionale. 60 le frane sulle strade comunali e provinciali della Toscana e 10 gli allagamenti più gravi. Nel Pistoiese il torrente Acqualunga ad Agliana, affluente dell'Ombrone, ha rotto un argine allagando case e fabbriche. Arno in piena ha monitorato per tutto il suo tratto fino a Pisa, sorvegliate anche l'Ombrone, nel Grossetano e il Serchio. Rossi ha poi fatto il punto sulla frana della Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani. Il fiume Paglia doveva essere risistemato da un consorzio del Lazio, che noi chiediamo passi a noi la competenza della manutenzione ai consorzi della Toscana, la competenza della manutenzione di quel territorio. Il Paglia ha mangiato il terreno sotto la statale e quindi la statale è franata. C'è una ditta che sta lavorando, a questa ditta abbiamo chiesto anche di provvedere, a dare un'occhiata e a intervenire per quel che può sulle due strade provinciali alternative. A creare molti problemi, soprattutto sulla costa, è stato poi il forte vento che ha soffiato con raffiche fino a 100 km orari in Maremma. Il Presidente ha poi spiegato, dopo la dichiarazione dell'emergenza regionale, è che la Regione cercherà le nuove risorse per far fronte ai nuovi danni, precisando comunque che non si tratta di un'emergenza paragonabile a quella dello scorso novembre. Riaprirà il 7 gennaio a senso unico alternato il tratto della statale Due Cassi a Trabbadia San Salvatore e Radicofani, franato sabato a causa del maltempo. Nelle immagini vedete proprio il tratto in cui si è verificato il cedimento lungo il fiume Paglia. Questo è stato il danno più rilevante della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Toscana il 21 e 22 dicembre. Il Presidente Enrico Rossi ha incontrato i sindaci del territorio e ANAS e ha ricordato che quel tratto del fiume Paglia è sotto la gestione del consorzio idraulico della Val di Paglia, un consorzio laziale. Le notizie sono che l'ANAS sta lavorando insieme al genio civile della Regione Toscana, insieme a tutti noi, per ripristinare le cose almeno subito dopo l'epifania. Ma questo non basta. Vogliamo fare un intervento di più ampio respiro. Cercherò di coinvolgere anche la Ministra e cercheremo di dare il segnale che si comincia a rimuovere le tante frane delle strade provinciali e si consolideranno alcune strade sempre provinciali che ne hanno estremamente bisogno e quindi un piano anche un po' più di ampio respiro per fare le sommergenze e mettere in sicurezza il territorio. Rossi ha detto che chiederà al Governo una nuova dichiarazione di Stato di emergenza nazionale. E proprio per questo faccio un appello al Governo, faccio un appello al Primo Ministro Conte, a cui cercherò insieme agli auguri di chiedere attenzione, perché ci sia riconosciuto, oltre che qualche finanziamento, anche un'altra volta purtroppo la dichiarazione dello Stato di emergenza. Noi pensiamo che intervenire in condizioni di emergenza non significa che prima non abbiamo fatto prevenzione. In questo caso forse poteva essere fatta, poteva essere regimato meglio da parte del Consorzio Etruria Meridionale, che è il Consorzio del Lazio, non della Regione Toscana. Però non è questo il punto. Noi vogliamo vedere se anche intervenendo in fase di emergenza si creano le condizioni perché i cittadini possano sentirsi più in sicurezza. Sanità. La Toscana torna sul podio dopo Veneto ed Emilia Romagna con la migliore qualità dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario è tenuto a fornire ai cittadini. La griglia LEA per il 2018 assegna alla Toscana 220 punti su un massimo di 225, bene l'assistenza ospedaliera, quella distrettuale, e migliorano rispetto al 2017 anche i dati sulla prevenzione, soprattutto dei bambini. La percentuale di quelli vaccinati per polio, difterite, tetano, epatite B, per tosse, emofilos, influenze, supera la soglia del 95% in tutte le asle toscane. Abbiamo migliorato molto sulla prevenzione, devo dire che la campagna vaccinale ha dato i suoi effetti, siamo tornati sopra il 95% di percentuale di vaccinazione, grazie a mio parere anche alla legge sull'obbligo vaccinale, e questo ci ha consentito anche sul fronte della prevenzione di migliorare molto, abbiamo dati buoni anche sugli screening. Bilancio positivo che riguarda anche le liste d'attesa, nonostante resti qualche problema per alcune visite specialistiche. La Toscana è comunque in linea rispetto ai tempi per gli interventi di carattere oncologico, dove c'è l'obbligo di intervenire nell'arco di 30 giorni. Noi abbiamo messo in piedi un piano per affrontare le liste d'attesa che non fosse un piano episodico, cioè che dà un risultato positivo oggi, ma poi tra qualche mese siamo punte a capo, ma un piano invece di rafforzamento sistematico che possa poi non solo portare oggi un buon risultato, ma possa mantenerlo anche nel tempo. Per mantenere alti i livelli di assistenza in Toscana, la Regione ha varato per i prossimi anni un piano da un miliardo e mezzo di euro. Agli italiani in vacanza nelle feste di Natale piace la Toscana e piacciono soprattutto le città d'arte e i borghi storici che costellano il territorio regionale e le lunghe file fuori dai monumenti sembrano confermarlo. Secondo un'indagine di CNA, sono 766.000 i turisti italiani che hanno scelto la Toscana, seguita dalla Lombardia a quota 614.000 e dall'Emilia Romagna a quota 592.000. Le stime prevedono che nel periodo di festa fino all'Epifania ciascun turista metta mano al portafoglio ogni giorno per circa 89 euro e che la spesa media del viaggio si aggiri sui 394 euro. Tra le preferenze per il soggiorno, crescono gli alloggi di proprietà e le strutture extra-alberghiere, mentre calano i classici alberghi. Trainano i soggiorni brevi, mentre calano quelli di più notti. Insomma, è il tempo di una visita lampo ai musei, di una passeggiata tra le decorazioni di Natale e di un selfie. È stata presentata nella sede dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a Firenze la prima borsa di studio Aurelio Nicolodi, destinata ai giovani aspiranti musicisti tra i 6 e i 25 anni che si vogliono dedicare allo studio di uno strumento musicale, del canto, della storia della musica o di armonia e contrapunto attraverso il linguaggio musicale Braille. La borsa di studio, del valore di 5.000 euro l'anno, è stata illustrata dal presidente del Consiglio regionale toscano dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Antonio Quatraro, dal presidente nazionale Mario Barbuto e dalla docente di musicologia dell'Università di Firenze Fiamma Nicolodi, nipote di Aurelio Nicolodi che, saranno 100 anni nel 2020, fondò l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La mia idea era quella di avere degli istruttori, dei docenti, che aiutassero giovani, compresi fra i 6 e i 25 anni, a imparare non a memoria, non da dilettanti, ma da professionisti, questa disciplina. Obiettivo della borsa di studio è formare giovani professionisti grazie all'affiancamento a personale docente qualificato. Per un vedente che può leggere la musica, che cosa fa? Mette lo spartito davanti agli occhi e, se è in grado, lo suona. Il non vedente, che pure arriva alle vette come concertista, anche come insegnante, deve prima memorizzare il brano e poi suonarlo, quindi deve fare una fatica doppia. Ecco, questa è la vera sfida a cui io facevo allusione. La borsa di studio Aurelio Nicolodi è un'iniziativa di livello nazionale e di alto valore culturale. Sostiene gli studi musicali e quindi i ragazzi che vogliono percorrere questa carriera che poi potrebbe diventare per alcuni di loro anche una forma d'arte, una forma d'espressione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla sede di Firenze e dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Povedenti entro il 31 marzo 2020.